Ok, oggi iniziamo a parlare di Giovanni Boccaccio partendo dall'introduzione che è presente sul vostro libro pagina 490. Questa è un'introduzione all'autore a cui seguirà una scheda presa da un altro libro della vita per poi analizzare genericamente quelle che sono le sue opere suddivise in due periodi, periodo napoletano e periodo fiorentino, per passare al Decameron che è il suo capolavoro. Allora iniziamo da qui. Una commedia umana perché fondamentalmente mentre Dante nella Divina Commedia parla del mondo dell'oltretomba e dell'importanza che Dio riveste all'interno della società, in Boccaccio dominante è la figura umana intesa come essere dotato di virtù e di bisogni, motivo per cui esistono anche delle novelle in cui è presente una sessualità molto spinta, motivo per cui molto spesso e soprattutto nell'età della controriforma le novelle verranno criticate e soprattutto nell'età della controriforma, salviati un intellettuale, ne rielaborerà i finali perché verrà considerata un'opera a tratti immorale. Per quanto riguarda poi la sessualità è vista appunto come parte integrante della vita umana. Da qui le novelle quali Cappellini traditori, rivisitata da Aldo Busi in cui troviamo una suora che ha una relazione che porta il suo amante all'interno del convento, è una badessa che dovrebbe essere una buona donna, non è una mia definizione ma definizione che riprendo essenzialmente dalla rivisitazione di Busi della novella, che invece ha una relazione con un prete. Ecco, tutto questo sembra amorale o immorale meglio. In realtà per Boccaccio la sessualità fa parte della vita umana, per cui protagonisti sono gli uomini. Anche altre opere, per esempio l'amorosa visione che vedremo nel periodo fiorentino, parla di una dimensione del tutto umana, così come la visione dell'amore che rende un uomo migliore nella comedia delle ninfe fiorentine, ha connotazioni del tutto umane, quindi la bellezza della donna riveste delle caratteristiche fisiche erotiche, per cui ciò che viene esaltato non è la spiritualità della donna, ma la sua bellezza estetica che suscita delle reazioni nell'uomo e queste reazioni lo rendono un uomo migliore. Quindi partendo da qui, se la commedia dantesca è stata definita divina, a buon diritto il Decameron merita l'appellativo di commedia umana. Nelle opere si manifestano aperta disponibilità alla vita terrena in tutti i suoi aspetti. Ora, mentre Petrarca viveva questa vita umana con senso di colpa, qui il senso di colpa sparisce per dare luogo invece all'esaltazione di quella che è l'intelligenza umana, per cui temi come la volontà divina sono sostituiti dalla fortuna, ovvero il destino che l'uomo può controllare. Mentre per Dante, per esempio, il tema della fortuna era strettamente connesso a Dio, qui si perde questa dimensione che possiamo definire trascendentale, a favore di una dimensione orizzontale. Questo anticipa di gran lunga quello che è l'umanesimo. Quindi una presenza vastissima di casi, di situazioni, personaggi, oggetti, si accumula nelle pagine del libro. Per quale motivo? Perché lo vedremo dalla vita, Boccaccio è sia un uomo legato alla classe borghese, perché il padre ha a che fare con il lavoro a pressione a banca, ma fondamentalmente ha avuto modo di entrare a contatto con il mondo della corte, per cui avendo visto i due modi è riuscito a coglierne i lati positivi e i lati negativi. Quindi ci sono persone, oggetti che partengono a tutte le classi, cioè oggetti e persone che partengono a tutte le classi sociali, tutti gli aspetti del mondo naturale, soprattutto assume rilievo la città, sede delle attività, degli scambi. Per esempio, la città è dominante in una novella che è Andreuccio da Perugia, con i suoi lati negativi, i suoi lati positivi, il giorno e la notte, il pericolo e la gioia. Qui si esalta in questa novella la capacità di superare le avventure e le disavventure. Quindi anche la città è un luogo in cui l'uomo si esprime in tutta la sua potenza, se mi si passa il termine. Quindi anche lo scenario geografico è amplissimo, l'Italia, l'Europa e il Mediterraneo, così come le serie dei tempi dal presente al passato a quello dell'antichità. Su questo scenario sono collocate le cento novelle, perché fa riferimento appunto all'opera del Decameron, costituita da cento racconti. Tra parentesi, il Boccaccio sarà considerato l'uomo della prosa, cioè quando Petro Bembo scriverà le prose della volga lingua, dirà Petrarca è il modello per la poesia, Boccaccio per la prosa. Ciò che rende vive attuale la loro lettura sono le narrazioni coinvolgenti di casi avventurosi e di amori felici o infelici. Fa riferimento per esempio alla quarta giornata, amori infelici, alla quinta invece si fa riferimento agli amori felici. Cioè amori felici o infelici significa che hanno un esito, una fine, felice o infelice. Le battute taglienti o argute con cui i personaggi di pronta intelligenza sanno cavarsi d'impaccio in situazioni difficili, le beffe, i danni di sciocchi e creduloni, i gesti di straordinaria nobiltà. Allora per esempio per quanto riguarda le beffe, noi abbiamo le beffe delle moglie e i mariti, così come abbiamo nell'ottava giornata le beffe di qualunque natura, i motti di spirito e ai motti di spirito le battute dedicata alla sesta giornata. Per esempio cavalcanti che incontra dei nobili che gli danno fastidio e mentre tra le tombe dice loro le persone che sono in questa tomba sono più vive di quanto siete voi. Tutti questi aspetti del mondo non si accumulano in forma caotica ma si presentano ordinati in schemi armonici, architetture, architetture rigorose vuol dire che esiste una simmetria per cui per esempio la prima giornata è a tema libero come la nona, la quarta è degli amori infelici, la quinta è degli amori felici per esempio. Quindi non è nulla è lasciato al caso ma tutto segue una struttura preordinata perché fondamentalmente il compito della letteratura è quella di dare un ordine al multiforme. Quello che esalta particolarmente Boccaccio è la capacità di saper vivere, l'intelligenza che permette all'uomo di superare i colpi, di affrontare, di salvaguardarsi dai colpi della fortuna intesa come sorte perché fortuna è una parola latina che si dice tecnicamente una vox media, cioè una via di mezzo per cui non significa buona sorte ma significa sorte. Quindi il culto dell'intrapendenza, dell'intelligenza che supera gli ostacoli, stessa come dicevo la novella di Andreuccio da Perugia, superare ostacoli e avversità. Altro aspetto che apre la strada all'età moderna, alla realtà moderna. Quindi adesso si affianca il culto del saper vivere mondano, cioè i piaceri della vita che prima erano vissuti con senso di colpa, si vede a Petrarca, in questo caso invece si vivono felicemente. Non a caso la straordinarietà dell'opera sta nel fatto che fondamentalmente l'opera è dedicata a delle donne. Ora la stranezza, come fa ad essere un Decameron, un'opera letteraria, a avere come dedicatari le donne? Cioè Boccaccio si rivolge a loro dicendo dedico a voi quest'opera perché fondamentalmente mentre gli uomini hanno qualcosa che li distrae, per esempio la caccia, voi no. E quindi soffrite. Vedete l'originalità e anche la concezione dell'amore, l'amore è sensuale ma l'amore è anche spirituale, per esempio l'amore tragico, l'amore di Ghismunda, l'amore di Elisabetta da Messina sono amori coinvolgenti. Prendiamo Elisabetta da Messina, ama sorella di mercanti, ama un uomo che per i fratelli è considerato indegno e viene ucciso e lo sogna e quando lo sogna si reca, trova il suo corpo, si porta la testa nella stanza per piangerlo e nel momento in cui i fratelli gli sottraggono quest'ultima cosa, l'unica cosa che rimane di lui, lei dal dolore muore. Stessa cosa Tancredi è un sovrano che uccide l'uomo amato dalla figlia e fa trovare a lei una coppa contenente il suo cuore e lei di fronte al padre si avvelena per dimostrare quanto era importante questo amore. Quindi sono amori difficili, struggenti, ma accanto a questo esiste anche l'amore felice, ma l'amore felice che si basa sull'intelligenza, per esempio Nastagio degli Onesti è un uomo che è innamorato di una donna che non ricambia, a un certo punto decide di allontanarsi per vivere da solo e vedete questo solo vi richiama, petacca, solo e pensosi più deserti campi e mentre nella selva, perché vai in un bosco e quella è l'inimerscenza di Dante, assiste ad una visione, la caccia dannata, cioè una donna che fugge inseguita da cani e da un cavaliere su un cavallo e questi cani la buttano per terra e il cavaliere la uccide. Quindi la caccia infernale è una tematica che viene ripresa anche in arte che descrive appunto questa donna che non ricambia e viene punita. Allora che cosa fa Nastagio degli Onesti? Porta lì la donna che lui vorrebbe sposare e la donna che assiste a questo spettacolo si spaventa e lo sposa. Vedete l'intelligenza? Lo sposa. Quindi Nastagio ottiene quello che voleva mentre tutti gli altri fino adesso, Petralca compreso, non facevano altro che lamentarsi. Quindi alla visione laica concorre la concezione dell'amore e dell'eros. L'eros è l'erotismo che non ne viene condannato perché ho detto prima la sessualità va parte della vita umana ma non solo delle persone che per esempio sono sposate ma fondamentalmente anche delle persone che vivono in un monastero o le persone che fanno parte della chiesa. Tant'è vero che si chiama boccaccesco significa appunto licenzioso. Quindi la fama di oscenità che ha circondato le novelle decameroniane è del tutto immeritata perché per boccaccio l'eros è una forza sana e innocente della natura. È peccato contrastare e reprimere e che riguarda con occhio sereno e sgombro di ogni malizia e morbosità. Quindi è una parte amore può troppo più che né voi né io possiamo. Questa è la novella della quarta giornata Tancredi e Gesmunda di cui ho parlato prima. Un amore tragico perché? Perché lei si avvelenisce l'amore più forte di quello che noi immaginiamo. Da qui noi abbiamo opere che hanno registi stilistici diversi. Infatti è perso spesso il perodiare è ampio mentre l'ordine delle parole riflette la volontà di dominare la diversità del mondo e di disporla disporre la realtà entro rigorosi moduli d'ordine. Quindi la complessità del periodo può spaventare il lettore moderno abituato a una prossa più snella ma superato il primo diciamo che non è un testo facile da leggere questo significa che è molto complesso il perodiare è molto le frasi lunghe e complesse sono tipiche di quella che era la scrittura di un autore latino come Cicerone quindi può sconcertare la complessità ma una volta superato questo si apprezza. Tra parentesi poi leggeremo si è delle novelle ma riscritte da Abusi per superare appunto questa difficoltà. Quindi poi ci sono le infinite voci dei personaggi che variano a secondo dell'ambiente sociale le situazioni gli argomenti dando luogo anche a battute di dialogo frizzanti ricche di ispressione del parlato che rendono viva la lettura ciò significa che in questa complessità del testo comunque Boccaccio utilizza registri diversi in modo da creare ricreare la realtà. Ora iniziamo a vedere un po' a livello schematico la vita finiamo questo video e iniziamo con la vita nel video successivo chi è Giovanni Boccaccio? Intanto è figlio illegittimo di un mercante che si era stabilito a Firenze si chiama Boccacino a 14 anni nel 1327 si trasferisce a Napoli per fare pratica bancaria e porta con sé il figlio quindi qui Boccaccio ha la possibilità di entrare a far parte della corte di Romberto d'Angio per cui sia il mondo borghese che il mondo aristocratico saranno fondamentali perché gli permetteranno di vedere e di osservare le varie le varie figure che poi noi ritroveremo nell'opera del Decameron quindi i due mondi nel Decameron si incontreranno e di osservare